E se quel giorno la mia compagna Andrè, per primis, potesse venirmi a salutare, ma la vorrei con la pace nel cuore, altrimenti di nuovo dovrei morire. Perché vorrei poi quel giorno i miei pochissimi amici venire a salutarmi, ma scanzonati come mi salutassero alla fermata del treno, altrimenti di nuovo dovrei morire. E vorrei quel giorno qualcuno che non immagino venire a salutarmi come ultima grande sorpresa della vita. E se quel giorno sole pieno ci sarà, mettetevi gli occhiali per proteggervi dal riflesso del sole e della morte. Grazie a tutti.